La mano è il distretto più specializzato del corpo umano. È in grado di passare da un'attività di forza, dove un solo dito sostiene il peso del corpo, a un'attività più di precisione, come ad esempio il cucito. Questo richiede ovviamente una specializzazione approfondita del terapista. In Italia siamo una ventina a possedere il certificato di terapista della mano, riconosciuto anche dalla Federazione Europea. La stretta collaborazione con i chirurghi della mano ci consente di affrontare al meglio qualsiasi tipo di patologia. Questo rappresenta la carta vincente per raggiungere i migliori risultati.